La signorina e i gusti e gli usi dei primi abitatori del nuovo zoo di Napoli Li ha catturati tutti quanti suo padre, Angelo Lombardi, nel cuore dell'Africa Gaspare, l'anziano dei Daini, dà buon esempio di socievolezza al resto della tribù Grande parata di pellicani, cicogne e ocche del Nilo I marabù avvezzi a tuffare il becco per ghermire la preda, oggi si nutrono di pesci volanti Uebi è il ragazzino prodigio della compagnia, è appena arrivato dalla Somalia Dove è stato preso nello scorso aprile sulle rive della Shebeli Siamo piccini ma cresceremo, a giudicare dalle dimensioni del poppatoio Tra un paio di anni si mangerà 150 chili di roba al giorno Ma allora peserà 18 quintali, adesso pesa 120 chili A quell'epoca galoperà da solo sulle acque del fiume